TeleSystem è azienda leader nel mercato italiano per la produzione e distribuzione di decoder, attenti a quelli che sono le evoluzioni del mercato audiovisivo. Il nostro impegno non si ferma alla sola tecnologia ma si estende al design in grado di esaltare i nostri prodotti. Oggi siamo felici di presentare la partnership con ZTE che ha fatto nascere App, innovativo decoder Ultra HD, digitale terrestre e Android TV. ZTE rende facile ciò che è difficile. App consente la visione dei contenuti televisivi trasmessi con il nuovo standard. E' questo l'obiettivo che ZTE sarebbe fissata e che ha raggiunto con pieno successo. Uno strumento semplice da utilizzare e facile da installare. Con App ora la tecnologia è a portata di tutti. Sorpresa! Ciao! Ciao! Come si? Ciao! Passiamo! Siamo carichissime! Ragazze, accendiamo subito la tv, anche se è presto, perché sono troppo emozionata. Ma vi rendete conto? Sono felicissima che ci trasmetta la tv. Ho avvisato tutti, amici, parenti, fino alla settima generazione. Sì, sì. Brava! Ma Stefania, hai collegato i fili della tv? Non si vede nulla? Ma come non si vede nulla? È strano, io fino a questa mattina guardavo la tv. Ma Stefania, ma io ti conosco troppo bene. Questa televisione avrà quasi 15 anni. Ma io ho portato per te il decoder di Telesystem. Non sei per niente smart. Televisore vecchio, tecnologia nuova. Telesystem incontra ZTE, realtà affermata a livello globale per la produzione di soluzioni integrate di comunicazione e informazione. L'innovativo decoder digitale terrestre App è il frutto di questo incontro, un dispositivo unico nel suo genere, il primo ad essere prodotto e distribuito nel mercato italiano. È in grado di aggiornare qualsiasi tv per permettere la visione dei canali digitali terrestri con le nuove codifiche sempre più performanti, ma soprattutto di rendere smart qualunque televisore attraverso il sistema operativo certificato Android TV. Questo permette di poter vedere, nella massima qualità disponibile, centinaia di contenuti live e in streaming. Una collaborazione vincente che non si ferma qui, per guardare a un futuro sempre più versatile, ricco di contenuti audiovisivi, ma con la giusta attenzione rivolta ad una fruizione sempre più user-friendly. Grazie.